Professore, qual è il vostro tasso di occupazione? Allora, molte delle nostre ragazze, come ha testimoniato adesso Rebecca, poi entrano nel mondo del lavoro, una buona percentuale. Un mondo del lavoro che appunto non è fatto soltanto come si stava dicendo prima, dall'abbigliamento in tessuto, quello per cui la nostra scuola forma, ma anche per la pelletteria. Quindi diciamo che chi si approccia a noi lo fa anche perché, anche per un passaparola, anche avendo sentito le esperienze di altre ragazze che poi alla fine dei cinque anni, come è capitato a Roselli, ma anche a tante altre, hanno trovato poi un'occupazione in tempi anche abbastanza brevi, diciamo. Come si passa a appassionarsi del disegnare un vestito, a appassionarsi al materiale, alla tecnica del materiale? Che succede? Questo penso sia non soltanto del materiale, ma anche di altre figure, come si stava dicendo prima, più tecniche che inizialmente non vengono previste da chi si iscrive a scuole come le nostre, ad esempio la modellista. Sicuramente questo presumo sia merito anche del corpo docenti che cerca di far vedere come la moda non sia soltanto quel mondo di creatività, ma che ha bisogno anche di tutti quei tecnici che si stava dicendo prima, che sono indispensabili per realizzare quel sogno. Quindi si è comunque parte di quel sogno, no? Ecco, voi come scuola, come scuola, vi state anche un po', visto che siete in Toscana, che è un distretto importante per la pelletteria, state anche focalizzandovi su questo in questo momento? State ampliando la vostra offerta formativa? Esatto. Vogliamo ampliare la nostra offerta formativa e proprio in questi giorni stiamo cercando di allestire di un nuovo laboratorio di pelletteria, perché il bacino Firenze, tutto intorno a Firenze, la pelletteria è importantissima, forse è uno dei settori più importanti. E allora anche se tradizionalmente noi siamo un istituto che si lavora sul tessuto, sull'abbigliamento di un tessuto, vogliamo affiancare nuovi contenuti, nuove competenze, anche perché appunto, insisto come ha dimostrato Rebecca prima, molte delle nostre studentesse poi sono andate nel settore proprio della pelletteria. E allora per dare una maggior competenza alle ragazze in uscita, vogliamo allestire un nuovo laboratorio e quindi nuove competenze per le ragazze. Benissimo, grazie professore, la lasciamo tornare in aula senza spostarsi dal computer, perché va così di questi tempi, grazie per la partecipazione e la sua testimonianza. E passiamo al mondo dell'occhialeria. Uno dice, ma che c'è da spiegare? Sono due lenti e due stanghette e invece tutto un mondo specialissimo e molto, molto interessante, specialmente con le nuove tecniche 3D che si affacciano.